Se è sublimata, come può la mente essere utile alla coscienza? Commento La mente, il corpo mentale, può proteggere la coscienza contro gli abissi e le oscurità. Certe esperienze negative della vita, se sono vogliate con una mente acuta, difendono una coscienza ancora insufficiente. Oltre la vita fisica, la mente ha senso se è sublimata alla ricerca di ciò che è superiore, è, dove pensa, è.